Vai. Cerco di non mangiare le boccate. No, no, è perfetto. Allora, punto 3. Povero Carlo Caffiero, cominciò a vagare per i manicomi del regno. Firenze, Imola, Nocera. Ti interrompo, manicomi, dillo... No, ok, la ricomincio. Ok, punto 3. Povero Carlo Caffiero, cominciò a vagare per i manicomi del regno. Firenze, Imola, Nocera. Lui, che si era proposto di spendere tutto il suo a pro degli altri, lui, che aveva gettato il guanto di sfida alla vecchia società borghese, era diventato pensieroso, cupo, ipocondriaco e la famiglia sua, reazionaria, lo fece interdire.